Salve cari amici, sono Fernando Cambiotto e vi parlo dalla città di Roma. Con il favore di io, oggi continuiamo con il nostro corso sui sette corpi. Vi ricordo che l'attività di oggi, come di solito, è divisa in due parti. Una prima parte che avrà una durata di più o meno un'ora. Tra un'ora faremo una breve pausa e continuiamo con la seconda parte. Oggi cominceremo proprio il nostro studio sul corpo emozionale. E lo scopo di questo studio è imparare a gestire le nostre emozioni. Controllare i nostri sentimenti, trasmutare i desideri e le passioni che ci fanno soffrire. E per questo c'è bisogno almeno di due cose. Il primo è sapere che è possibile. Perché in realtà la maggior parte dell'umanità nemmeno sa che dovrebbe gestire qualcosa. Diciamo, il mondo emozionale. La maggior parte dell'umanità ignora che l'80% delle cause che noi generiamo sono cause emozionali, si trovano nel nostro mondo emozionale. Sono i nostri sentimenti, emozioni, desideri, passioni, eccetera. Il secondo è conoscere le leggi che controllano il mondo emozionale, che sono diverse da quelle che rettano il mondo fisico. Ditemi voi ora, che leggi noi conosciamo che controllano il piano fisico o rettano il piano fisico? La legge del mentalismo? No, la legge del mentalismo controlla il mondo mentale. Parla di leggi fisiche. La legge di gravità, di gravitazione. Altre? Altre leggi? La legge centrifuga. La legge centrifuga, la legge per esempio di conservazione dell'energia. È una legge fisica che viene studiata dai scienziati e anche noi abbiamo almeno una conoscenza diretta, pratica. Le leggi dei movimenti, della forza. Ecco, noi sappiamo per esempio che per spostare, magari non abbiamo una conoscenza intellettuale, non ricordiamo ciò che abbiamo studiato a scuola di fisica molto, no? Ma almeno sappiamo che per spostare questo bicchiere, che è fermo, occorre applicare una forza. Quello è una conoscenza pratica, non intellettuale, una conoscenza diretta che abbiamo acquisito da bambini. Ecco, bene. E sappiamo che dobbiamo applicare una forza perché la natura della materia fisica è l'inerzia. Le cose, se tu non applichi una cosa, non si muovono da sole. È una cosa che il movimento, in modo che si fermi, deve anche applicarsi una forza contraria. Ehi, tu lo stai guidando la macchina in modo che la macchina si fermi, devi... Come si dice? Ecco, mettene il freno. Invece, nel mondo emozionale è dal tutto diverso. La materia emozionale è in continuo movimento. Nel mondo emozionale, nel piano emozionale, la legge di gravitazione non c'è, non esiste. Invece, c'è un'altra legge, quella di attrazione e repulsione. O potremmo parlare di due leggi gemelle, attrazione e repulsione. La natura della materia emozionale è quella di attrarsi, attrarre quello simile. Due sentimenti che hanno un oggetto, che sono simili o che hanno lo stesso oggetto, diciamo, un desiderio, due desideri di una stessa cosa, di una stessa persona, per natura si attraggono. Ma quando dentro il sentimento o il desiderio o l'emozione c'è un contenuto di rifiuto, entra anche in azione, quel rifiuto mette in azione la legge di repulsione. Quando questo accade, ci sono due forze diverse e opposte, agendo attrazione e repulsione. E questo fa in modo che questi sentimenti si distrugano. Perciò, nel piano astrale, il male non può crescere continuamente, perché il male attrarre il male e distrugge se stesso. Vedremo durante la lezione come agisce questo in modo pratico e come noi possiamo, con questa conoscenza applicata in modo pratico, gestire le nostre emozioni. Va bene? Andiamo avanti. Quindi, qual è la legge del piano astrale? Attrazione e repulsione. Molto bene, andiamo avanti. La bibliografia di questo corso è il libro Metafisica avanzata. Lo trovate in formato ebook su Amazon.it, ma anche con il favore di Dio tra due o tre settimane in formato cartaceo. Il libro è già in stampa, con il favore di Dio. Se desiderate acquistare il libro in formato ebook, potete andare sulla nostra pagina Facebook, Metafisica Italia, sede centrale. Fate clic sul libro che desiderate e quello vi porterà immediatamente su Amazon.it o un'altra libreria virtuale. Andiamo avanti. Faremo, come di solito, un ripasso di ciò che abbiamo imparato, le conoscenze fondamentali di questo corso. Prima di tutto, com'è rappresentata la costituzione umana nell'immagine della presenza io sono? Trina. Ecco, è in modo trino. L'essere umano viene rappresentato come un essere trino. Qual è quella trinità? Io sono, Cristo interno e personalità. Molto bene. Presenza io sono o spirito. Cristo interno o anima e corpo o personalità. Molto bene. Ma il corpo non è soltanto il corpo fisico. La personalità viene composta da quattro corpi inferiori. Che sono? Mentale inferiore. Mentale inferiore. Eterico. E prima del... Eterico. Astrale o emozionale. Eterico. E fisico. E fisico. Molto bene. Ripetiamo. Mentale inferiore. Astrale. Eterico. E fisico. Di nuovo. La costituzione umana, secondo l'immagine della presenza io sono, è presenza io sono o spirito. Cristo interno o anima. Personalità. Ecologo. La personalità è composta dal corpo mentale inferiore. Astrale. Eterico. E fisico. Molto bene. Vediamo in quest'altro diagramma anche raffigurata la personalità in un modo un po' diverso. Ricordando che questi quattro veicoli inferiori si trovano tutti qui. La materia di ogni corpo interpenetra quella degli altri. E siccome i corpi superiori sono più sottili e anche più grandi, avvolgono quelli inferiori. Siete concentrati, no? Sì, sì. Ok, andiamo. Ricordiamo. Il corpo più denso di tutti è il più piccolo. Piccolo in apparenza è il corpo fisico. Fatto di cosa? Ossa. 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 Carne. Sangue. Ma se andiamo alla lezione dei piani, ci sono i tre stati della materia più densi a comporre solido, liquido e gasoso. Ecco, il solido? Le ossa. E il liquido? Il sangue. Ecco. E il gas? I gasossi. Ecco, l'ossigeno. L'ossigeno, l'aria dentro i polmoni. Ecco, molto bene. Dopo c'è il corpo eterico. Che il corpo eterico viene chiamato anche doppio eterico. Perché è uguale al corpo fisico, ma fatto di pure energia vitale. Come viene nutrito? Da cosa viene nutrito il corpo eterico? Dal prana. Dal prana. Molto bene. Che cos'è il prana? L'energia vitale. L'energia vitale. Il prana è energia vitale. E come? Assimila. Da dove prende quel prana il corpo eterico? Dal solare vitale. Ok, da uno a uno. Prima dallo sole. E il modo che possiamo... Come assorbe quell'energia, quel prana? Che cosa dobbiamo fare? Prendere il sole. Prendere il sole. Prendere il sole, sì. Perché se tu ti nascondi e sei sempre dentro la casa, dentro una grotta, alla fine non prendi molto prana solare, capisci? Devi prendere un po' di sole quando si può. Ecco, non troppo, ovviamente. Dopo. Un altro modo? Alimentazione. Attraverso un'alimentazione. Ma mangiare le cose? La buca? Il melatino? No, no. Perché durante il processo perdono un po' oltre tutto il prana. E dopo manca qualcosa? Un terzo modo di assorbere il prana? La respirazione. La respirazione. La respirazione. La respirazione. La rinica possibile. Se facciamo la respirazione rinica meglio, ma sempre che tu respiri entra il prana nel tuo corpo. Fantastico. E dopo il corpo emozionale che è un ovoide più o meno e anche il mentale un ovoide ancora più grande. Avevamo imparato diverse attività del corpo eterico. Che cosa ci provvede il corpo eterico? Che cosa ci permette di avere, fare? Ci dà la memoria il corpo eterico. Un'altra cosa? Crescere. Crescere. Perché? Perché assimila gli alimenti ed esperienza ciò che non serve. La riproduzione. Permette la riproduzione. E le funzioni vitali del corpo. Che cosa? Le funzioni vitali del corpo. Funzioni vitali, la circolazione del sangue, è qualcosa che è molto importante, che ci permette di fare contatto con il piano fisico. I sensi. I cinque sensi. Ecco, quali sono i cinque sensi? La vista. Del corpo fisico eterico. La vista, l'udito. Visto. Vi dirò in ordine. La vista. In ordine. Secondo. Il più antico, andremo dal più antico al più nuovo. Udito. L'udito. L'udito è stato il primo senso a svilupparsi. Il secondo, il tatto. Il terzo, la vista. Il quarto, il gusto. E l'ultimo, l'olfatto. Di nuovo. Udito. Tatto. Tatto. Il vista. Gusto. E l'olfatto. Perciò l'olfatto è il meno sviluppato dei nostri cinque sensi. Andiamo avanti. I sette piani. Ricordiamo la definizione. Magari alla fine del corso abbiamo memorizzato questa definizione. Vedremo. I sette piani sono differenti. Leggiamo insieme. Sono differenti stati della materia che in accordo con la propria migrazione sono organizzati dal più verso fino al più sottile. Ognuno di loro ha un'estensione, uno stato di coscienza determinato. Le caratteristiche che le differenziano dagli altri. L'essere umano ha un corpo in ogni piano. Molto bene. Abbiamo tre le differenze di cui parla questa definizione. Ci sono le leggi. Sì? Così vi ho detto che la legge di gravitazione agisce nel piano fisico. Invece nel piano astrale è quella di alterazione e repulsione. Fantastico. Ricordiamo ora il nome dei sette piani. Dal più sottile fino al più denso, più alto e più basso. Ardico, monarico, ardico, buddico, mentale, astrale e fisico. Di nuovo. Ardico, monarico, plasmico, buddico, mentale, astrale e fisico. Sì, ricordiamo che questi sette piani si raggruppano in due parti, superiori e inferiori. Quali sono i piani superiori? Da ardico a ardico, monarico, artico, guttico e mentale, superiore. Perché si fa questa differenziazione? Perché? Questa divisione. Nel mentale inferiore parliamo del corpo fisico. Della personalità. Ecco. E cosa accade? Allora, sì? Nei piani inferiori, cioè mentale inferiore, astrale, fisico e eterico. Che cosa accade nei piani inferiori che non succede nei piani superiori? C'è la legge di gravità? No. No. La gravitazione soltanto si esprime nel piano fisico. C'è un'altra differenza. Perché parliamo dei piani inferiori e superiori? Perché dal mentale superiore si parla di spiritualità. E che cosa? C'è la perfezione, certo. C'è la perfezione. Ecco. Non si può esprimere nulla che non sia la volontà di Dio. Dal mentale superiore in su. Invece, dal piano mentale inferiore in giù, accade, c'è di tutto. Si può esprimere in perfezione ma anche in perfezione. Perché? Perché sono i piani dove si svolge l'attività della personalità. Quando la personalità pensa e sente, parla e agisce negativamente, crea in questi piani, almeno temporaneamente, delle imperfezioni. Andiamo avanti. Dimmi, Delia. Medientemente libero arbitrio. In questo caso, siccome dal mentale superiore in poi, già si manifesta il Cristo, una fa alla prima iniziazione. Quindi, c'è anche il libero arbitrio nel piano superiore in poi o già è una con la volontà? Ma il problema non è il libero arbitrio, dal mentale superiore in su. Ciò che accade è che nel piano mentale superiore comincia a percepirsi l'unità. Ancora si riesce a osservare le differenze e la separazione, ma sopra uno sfondo di unità. E quindi, tu, quando hai coscienza cristica, cioè coscienza mentale superiore, non sei capace di fare del male a un altro perché è come farti il male a te stesso. Non ha senso. Capisci quello. E' lo stato di coscienza così elevato che sei incapace di danneggiare un'altra persona, un altro essere. Sì? Il problema qui, dal mentale inferiore, verso il piano fisico, è che crediamo, la coscienza quando si muove lì, crede di essere qualcosa di separata dagli altri. E perciò le persone pensano, ah, posso rubare comunque, mi approfitto e mi prendo quel denaro. E non si rendono conto che in realtà non stanno facendo nulla. Si stanno danneggiando se stesso. Sì? Sì. Si capisce? Ok. Scusate, ma... Una questione di coscienza, di consapevolezza. E come si può capire che si ha una consapevolezza superiore? Superiore. Ok. Certo. Come ti rendi conto? Come ti rendi conto di avere? Cioè, è la consapevolezza che a quel punto non sei più in uno stato mentale inferiore o superiore, ma sei un pochino più elevato. Ok, quando tu stai pensando, il Cristo interno della coscienza cristica non è una cosa fuori da te, qualcosa di diverso. E' uno stato di coscienza che stai sviluppando o dovresti sviluppare un giorno. Quando tu pensi in modo positivo, senti in modo positivo, parli di cose buone e fai il bene, tu ti trovi in uno stato di coscienza cristico. E lì come ti rendi conto? E come ti rendi conto a pieno? Cioè, ci sono tante persone che magari fanno del bene, nel senso che sono generose oppure che non sono capaci di fare del male agli altri. Però, cioè, dov'è quella linea che ti fa intuire che sei a un livello un po' più alto oppure comunque può essere sempre far parte della personalità? Ma quando tu, prima di tutto, è coscienza, il Cristo interno è coscienza. Quindi quando tu hai quella coscienza ti rendi conto? Amico. Sei autoconsapevole. E autoconsapevolezza di se stesso. Non ci vuoi neanche aspettare. Comunque, all'inizio, forse, ci sono delle persone che stanno arrivando a quel livello di coscienza, non hanno molta conoscenza, ma naturalmente si avvicinano allo sviluppo dell'amore, non direi la carità, la compassione, la buona volontà. E' quello veramente che riguarda, è la porta aperta verso i piani spirituali. Quando quello accade, nei piani interni si guarda una luce. La coscienza della persona, la persona, i corpi interni della persona risplendono. Ok? E questo prende l'attenzione di qualche essere di luce. E cosa fa? Avvicinare quell'anima a qualcuno nel piano fisico che possa comunicare la conoscenza che quella persona ha bisogno per continuare avanti il suo percorso spirituale. Quella persona che si avvicina al piano mentale superiore si avvicina al sentiero spirituale. Quando parlo di sentiero spirituale non parlo di un'organizzazione. Tu arrivi a quell'organizzazione, metti una firma e stai nel sentiero spirituale. No, non è così. Il sentiero spirituale è un percorso di sviluppo dell'autoconsapevolezza. È qualcosa di interno. Quando gli esseri di luce vedono che lo studente è pronto, il maestro appare. Ma all'inizio quel maestro non è un maestro di saggezza. Perché la persona non è in grado ancora di avere un rapporto consapevole con un essere di luce. Che cosa fanno gli angeli del piano divino di perfezione? Avvicinare quella persona sia a un'altra o sia a un gruppo dove possa ricevere e imparare l'insegnamento di cui ha bisogno per continuare avanti il suo percorso spirituale. E questo maestro può essere anche calato in una persona come un fenomeno umano normale? Un facilitatore di metafisica o qualcosa del genere. O a voi che ti avvicina un libro all'inizio, cominci studiando con un libro e dopo trovi qualcuno che ti possa spiegare come metti in pratica quell'informazione. Andiamo avanti? Sì. Bene. I sette corpi. L'essere umano ha un corpo in ogni piano. Ricordiamo, nel piano monarico c'è la presenza io sono, il nostro spirito che non può scendere da quel piano di vibrazione, ma può far scendere un raggio di luce, un raggio di energia e di coscienza. E così in ogni piano inferiore costruire col tempo lungo uno schema di evoluzione, un giorno dovremo studiare che cos'è uno schema e come si svolge uno schema di evoluzione, costruisce un corpo in ogni piano. In questo modo, attraverso ogni corpo, lo spirito può, usando i sensi di ogni corpo, contattare la materia di quel piano, imparare a controllarla, così avere esperienze e con quelle esperienze espandere coscienza. Perché in realtà tutto il processo di evoluzione non è altro che espandere coscienza. Sì? Ok. Ricordiamo, nel piano atmico abbiamo quindi un corpo atmico, nel piano buddico, il corpo buddico, nel piano mentale superiore, il corpo mentale superiore, conosciuto anche come corpo causale. Nel piano mentale inferiore, un corpo mentale inferiore, che sarà il prossimo corpo a studiare da noi. Il corpo astrale, oppure corpo emozionale, è l'argomento della lezione di oggi e di quella prossima. E il corpo fisico-aterico è stato l'argomento delle lezioni precedenti. Domande? Sì, quando tu dici che la presenza io sono alla monada non può scendere, tu fai riferimento a che la vibrazione degli altri piani che non permettono una espressione completa di quel... Quella coscienza della presenza, la presenza io sono, sentite questo, la presenza io sono, il nostro spirito nel piano monadico è onniscienza. Cioè, tuo spirito nel piano monadico, nel piano spirituale è onnisciente, onnipotente e onnipresente. Ecco, ma nei piani armico, buddico, mentale, astrale e anche il fisico non sa nulla, è inconsapevole, impotente, incapace di nulla. Qual è lo scopo dell'evoluzione? Che lo spirito diventi anche onnisciente, onnipotente e onnipresente in tutti i piani. Noi siamo lo spirito incarnato, la prova è quel corpo. La prova è che quando c'è un corpo nel piano fisico significa che c'è uno spirito incarnato, individualizzato in quel corpo umano. Ma ancora sta sviluppando le qualità che si trovano in potenza dentro di sé. Che ha sviluppato abbastanza, ha fatto tanto. Ma ancora deve sviluppare ed esprimere tutto il potere, tutta la licenza, l'intelligenza, l'amore, la purezza, la salute, la perfezione, che è la natura dello spirito nel piano spirituale. Sì? Quello è l'obiettivo della vita, non di questa, di tutta, di tutto il samsara, di tutta la ruota delle reincarnazioni. Che cosa unisce i sette corpi? Che cosa unisce? I corpi siano inferiori che superiori con la presenza di un sono. Ecco, il cordone argentato, molto bene. Il cordone argentato che cos'è? Leggiamo. E' uno strumento composto di materia sottile che unisce il corpo fisico e il corpo astrale e mentale con Cristo e il terriore e la divina presenza di un sono. Dove è ancorato il cordone argentato all'interno del corpo fisico? Nel cuore. Nel cuore, ma dove? Nel cuore. Nel cuore sinistro. Nella fiamma. Cioè, nel venticolo. Nel venticolo. Ma che cosa c'è nel venticolo sinistro? La fiamma. Eccolo. L'atomo maestro fisico. L'atomo maestro fisico dove si ancora il cordone argentato e sorge la fiamma triplice. Ricordiamo che cos'è l'atomo maestro fisico. Tutti. Si trova nell'apice del venticolo sinistro del tuo cuore. E controlla tutte le due funzioni. Neologiche. Neologiche. Molto bene. Ricordiamo un po' che cosa fa l'atomo, a che cosa serve l'atomo maestro. Ogni corpo ha un atomo maestro. Quello del corpo fisico si trova durante l'incarnazione nell'apice del venticolo sinistro del cuore. Allora raccoglie tutte le memorie. Eh? Raccoglie tutte le memorie. Benissimo. Hai una bravissima memoria. Fantastico. Raccoglie tutte le memorie dell'incarnazione. Sai che secondo gli ultimi studi hanno scoperto gli scienziati che praticamente non è il cervello come noi abbiamo sempre pensato a regolare, diciamo, le nostre emozioni. Ma è il cuore. Cioè questa è l'ultima scoperta scientifica della scienza. Ok. Comunque il cervello non è un altro che questo. Credo che nemmeno questo. Un computer. Nemmeno un computer. E' quella parte del corpo fisico che collega la mente con il resto del corpo. E' quello il cervello. Il cervello non pensa. Pensa alla mente. Perciò quando c'è un'apparenza di tolgo potere, un'apparenza di problema, nel cervello, il cervello non funziona più. La mente non è più in grado di controllare il corpo fisico. Ma quel corpo mentale, nel suo piano, è in grado di continuare a pensare. Magari è come dire, come dirti. Tu sei chi guida la macchina. Quello che guida la macchina. L'autista. Sì, l'autista. Ecco. Se magari il motore non funziona più, non vuol dire che tu non sei in grado di guidare una macchina. Tu continui a non soltanto guidare la macchina, a fare tante altre cose. Ma quella macchina non puoi guidarla più perché non serve il motore. Lo stesso accade. Noi siamo il Cristo. Il Cristo è l'autista. E questo è semplicemente una macchina. Il corpo fisico è una macchina. Non più. Ma non soltanto il corpo fisico, ma anche il corpo emozionale e il corpo mentale sono parte della macchina. Noi siamo l'autista. O come diceva San Francesco, va, sì, sì, noi siamo in realtà il jinete, come si dice? Quello che va sopra un cavallo o un asino. Chi cavallca? Sì, sì, il fantino. Il fantino. Il cavaliere. Il cavallo. Noi siamo il cavallo. Ecco, noi siamo il cavaliere. Sì, veramente. Il corpo, la personalità e l'asino. Nemmeno un cavallo. Di solito. Un semplice asino. Ok. Atomo maestro contiene, ricordiamo, contiene l'insieme di istruzioni necessarie per formare un corpo. Quando... Quell'atomo maestro, quando arriva il momento di incarnare, gli angeli del piano divino mettono quell'atomo maestro dentro uno spermatuzzo del nostro padre. E quell'atomo maestro è l'unico in grado di fecondare un ovulo. Sì? Sì? Bene. Dentro il corpo che cosa fa? Dentro l'ovulo fecondato, quell'atomo maestro comincia a vibrare e magnetizzare materia del corpo della nostra mamma, che ha una frequenza vibratoria simile a quella della nostra anima, in modo di creare il corpo che ci corrisponde per diritto di coscienza. Perciò anche la tua mamma ti appartiene, o è tua mamma per corrispondenza. Durante il periodo dell'incarnazione ha il compito di raccogliere l'apprendistato che la corrente di vita riceve, provando ognuna delle esperienze che deve vivere, come spiegava Angela. Dove si trova l'atomo maestro emozionale o astrale? Vicino al fegato. Ok. All'altezza del fegato, ma nel piano e nel corpo astrale. Molto bene. E l'atomo maestro mentale? Della ghiandola. All'altezza della ghiandola. Pituitaria, pituitaria, pituitaria. Al terzo, all'altezza del terzo occhio. Sì, di questo chakra. Come si chiamava questo chakra? Akhnya chakra. Akhnya chakra. O quello del terzo occhio. Ok, molto bene. Andiamo a vedere le caratteristiche, le funzioni del corpo emozionale. Leggiamo insieme. Permette di avere sentimenti, sensibili, muoverci, eccetera. Ci permette di provare voglia di fare qualcosa. Se non avessimo un corpo emozionale, saremmo in grado di muoverci. Ma non avremmo voglia di farlo e resteremmo fermi. Saremmo soltanto un corpo fisico vitalizzato dal corpo eterico, ma senza desideri, senza motivazioni emozionali. Non facciamo nulla. Ciò che muove il mondo è il desiderio, il sentimento, l'emozione. È chiaro? Quindi, ditemi voi, che regni della natura non hanno corpo emozionale? Le rocce. La rocce non hanno, il mondo minerale non ha corpo emozionale. Ecco, nemmeno ha corpo eterico. Un altro regno che non ha corpo emozionale? I vegetali. I vegetali neanche hanno delle emozioni. E perciò non girano, non si muovono. Anche i pesci. No, i pesci hanno, si muovono. Sì, sì. I pesci sono anche vertebrati, quindi... Ecco, il regno animale ha corpo emozionale. Sta infatti sviluppando le sue emozioni, le loro emozioni. È il regno umano, ovviamente. Andiamo avanti. Secondo, si prende possesso completo di questo corpo a partire dall'età di 14 anni, quando si inizia ad avere sentimenti propri. Cioè quando si arriva all'adolescenza. E perciò questo è un periodo un po' particolare. Un po' particolare. Per ognuno di noi, anche per i genitori. Misterioso. Contestano. Sì, ma ecco. Dunque dice questo, perché? Perché mi hai detto così? Perché devo fare così? Perché? Perché proprio in quel momento, dai 14 anni in più, si stanno individualizzando emozionalmente. O meglio dire, si hanno individualizzato, o si sono, si sono individualizzati emozionalmente. Sentite bene. Noi nasciamo. Il corpo fisico nasce il giorno della nascita. Bene. Il corpo eterico finisce la sua formazione ai 7 anni. Quando si arriva all'età di 7 anni. Perciò i bambini hanno una vitalità enorme, tremenda. Perché? Perché il loro corpo eterico è parte del piano eterico del pianeta. Hanno la vitalità della natura. Come gli animali. Ok. E così, chi ha avuto dei bambini, sa, in quell'età ti stancano, veramente, no? Fisicamente. Ok. Dopo, il corpo emozionale finisce la sua formazione ai 14 anni. Fino a quel punto, il bambino assorbe le emozioni e gli atteggiamenti, sia dei genitori, della famiglia o delle persone con cui è cresciuto. E dopo, non subito, ma mano a mano, cominciano ad avere dei propri desideri, i propri sentimenti, piace questo, non piace l'altro. E a volte i genitori facciano fatica a capire questi ragazzi che non si capiscono nemmeno loro. Ma il problema sarebbe che continuassero, continuassero a dire di sì. Sempre. In realtà è naturale. Così deve essere. Pior devono sviluppare i propri, i suoi propri sentimenti. E a volte, semplicemente, ti dicono di no, oppure che non piace questo, per dimostrare una differenza, per spaccarsi dalle tue caratteristiche, non più. Sì? Ok. L'importante è sapere. Per dimostrare la propria individualità. La propria individualità, il proprio carattere diverso dal tuo. Ok. La materia astrale è mutevole e plasmabile all'azione del pensiero. Ciò che noi pensiamo, sentite bene, ciò che noi pensiamo immediatamente crea una forma nel piano mentale. ciò che si chiama forma, pensiero, oppure archetipo mentale. Un'immagine mentale. Se io ti dico, pensa a tua figlia maggiore, o ti parlo di lei, ti dico Federica, per esempio, tu hai un'immagine di lei. persino puoi chiudere i tuoi occhi e vedere guardare chiaramente quell'immagine. Quello non è Federica o tua figlia, è semplicemente un archetipo mentale che tu hai creato di lei. E ognuno di noi ha un'immagine mentale di tutto ciò che ha pensato. O che pensiamo più o meno continuamente. Bene. Ciò che noi pensiamo non soltanto crea un'immagine mentale, ma quando viene aggiunto il sentimento crea anche una forma nel piano emozionale che è sovrapposta a quella mentale. Cioè, l'archetipo mentale, l'immagine mentale si carica di energia emozionale, viene vitalizzata dai sentimenti siano positivi che negativi. Ok? Quasi immediatamente. Tre secondi dopo, non più. Perciò si ispira che la materia astrale è plasmabile, modellabile all'azione del pensiero. e questo è meraviglioso e meraviglioso durante il periodo post-mortem soprattutto quando la persona si trova nel piano astrale superiore perché ciò che desidera diventa una realtà immediatamente. e perciò si parla del cheno. Ok? Ogni desiderio sempre che sia positivo è esauribile. non ho capito che stava bene. Ogni desiderio si può esprimere, si può manifestare. È importante che non... Si capisce o no? No, non ho capito. No, mi manco... Sì, ti sei distratto un po'. Ti sei distratto, sì. Dopo la disincarnazione quindi una persona che sta muore... Una persona morta quando arriva durante il periodo post-mortem a quel piano una volta che una persona disincarna la coscienza si trasferisce dal corpo fisico al corpo emozionale. Ok. Ma non tutti allo stesso livello se la persona in qualche momento arriverà comunque al livello superiore del piano astrale. Quando arriva a quel punto quello è il cielo. Stai a mell'ascensione? No, no, manca tantissimo. Ma si parla di cielo perché? Un cielo diciamo un po' materiale. Perché? Perché siccome la materia astrale è modellabile dal pensiero ciò che tu pensi desideri diventa una forma immediatamente. Per esempio tu durante tu eri durante l'incarnazione volevi diventare una una un un pittone per esempio. Ma non eri molto bravo. Diciamo che ciò che faccia avere uno schifo. si? Qua invece quando arrivi sul piano astrale superiore durante il periodo post-mortem sei in grado di dipingere ciò che sei in grado di immaginare. quindi se tu vieni nella vita plasmando le cose brutte le mette le pesicari puoi fare tu volevi una casa grande bellissima ma hai fatto una persona qualunque voleva una mansione un castello una grande casa ma era povera e non riusciva a trovare i soldi ok quando arriva a quel piano quella casa che desiderava sebbene non si è manifestata mai nel piano fisico nel piano astrale quel desiderio aveva creato quella forma e quando arriva al piano astrale la trova come una casa reale la casa dei suoi sogni non ci sono abilità nel piano astrale superiore ecco sempre che le cose siano buone positive costruttive sono raggiungibili nel piano astrale superiore però però la persona gode di quello è in grado perché ha un corpo emozionale e si gode quello in una dimensione parallela o superiore in pratica in una dimensione superiore non è fisica ma è emozionale e in quel momento per quella persona le forme astrali sono così reali come per noi le cose fisiche infatti durante le ore di sogno noi soprattutto quando le persone hanno dei sogni si si trova nel mondo emozionale e quelle cose che vive che prova in quel momento sono reali sono vere ok andiamo però scusami essere una persona invece malvagia pensa a cose brutte vedremo cosa accade non è così bello quello vediamo la sua legge la legge del corpo e del piano emozionale è quella di attrazione e repulsione che funziona in modo diverso nell'astrale superiore e nell'inferiore che cosa accade vedremo vedremo lo vedremo subito andiamo prima a osservare i sottopiani del piano astrale i sette piani di manifestazione sono una divisione o una suddivisione della materia universale in sette gradi di materia ma abbiamo visto già durante il nostro studio del piano eterico che ogni piano anche si suddivide in sette sottopiani questo accade anche nel piano astrale o emozionale i sette sottopiani del piano astrale sono se vengono chiamati dal più sottile fino al più denso potere animico luce animica vita animica sottopiano del sentimento della trazione dell'impressionabilità della passione e del desiderio sensuale animica questi sette sottopiani si raggruppano in due grandi parti che sono piano astrale superiore e piano astrale inferiore il piano astrale superiore è composto dai primi sottopiani potere animico luce animica e vita animica e vi spiegavo precedentemente che questo è proprio il primo cielo che trova l'anima del disincarnato durante il periodo post-morto ma soltanto i sentimenti belli puri possono esprimersi in questi primi tre sottopiani invece il piano astrale inferiore è composto di materia dai quattro sottopiani inferiori che sono sentimento attrazione impressionabilità e passione e desiderio sensuali questo piano astrale inferiore è ciò che viene chiamato il purgatorio per non dire inferno a volte ma non parliamo di inferno perché in realtà l'inferno sarebbe uno stato di coscienza negativo eterno invece non c'è niente di negativo che possa essere eterno in tutto l'universo grazie Dio fortunatamente perciò parliamo di purgatorio e quando l'anima ha delle cose negative da trasmutare dopo disincarnare la prima parte del periodo post-mortem rimane nel piano astrale inferiore la sua coscienza è focalizzata nel corpo astrale inferiore attraversa un purgatorio si prova un purgatorio che è un periodo di purificazione di trasmutazione non sarà l'argomento di oggi ma più avanti quando faremo la lezione di cosa succede dopo la morte parleremo di questo nel piano la legge di attrazione e repulsione è la legge del piano astrale ma agisce in modo diverso sia nel piano astrale superiore sia nell'astrale inferiore nell'astrale superiore soltanto agisce quella di attrazione perché perché la natura della materia emozionale è quella di attrarre il simile ciò che ha una vibrazione simile e legge di vibrazione due sentimenti uguali si attraggono e in questo modo il bene i sentimenti puri buoni crescono eternamente mentre vengono vengano alimentati crescono 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 ok e il bene non finisce mai invece nel piano astrale agisce non soltanto la trazione ma anche la repulsione perché perché i sentimenti negativi soltanto si esprimono si manifestano nel mondo emozionale inferiore sono emozioni inferiori e ogni sentimento negativo ha qualche contenuto almeno una particella di rifiuto verso qualcosa verso qualcuno e quel contenuto di rifiuto mette in moto la repulsione più negativo è il sentimento più rifiuto c'è più agisce la legge di repulsione e in questo modo i sentimenti negativi si attraverano ma anche si disintelano si 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 repellano si repellano si repellano si repellano e in questo modo il male distrugge se stesso vediamo in modo pratico come agisce questo ok vediamo in modo pratico bene vediamo qui nel piano astrale inferiore e pulvato troviamo le creazioni umane più grossolane odio invidia depressione paura queste sono descrizioni che fa un famoso metafisico Liedbiter Charles Liedbiter ha dei libri fantastici un libro che si chiama proprio il corpo astrale e fa una descrizione di come si vede per esempio il corpo astrale di una persona che sta provando colera irascibilità e diversi sentimenti negativi anche i sentimenti positivi ok bene andiamo che cosa accade siccome la natura dei sentimenti è quella di attrarre il simile per esempio le persone che hanno un interesse comune si attrarono e formano un gruppo un esempio noi un gruppo di persone a cui piace la metafisica ci mettiamo d'accordo e facciamo una riunione o un incontro per parlare di metafisica così un gruppo di persone per esempio che amano la musica creano un gruppo di musica cantanti o un gruppo di opera magari un conservatorio anche e un gruppo di ladri? si cercano tra di loro ecco che sono che cosa fanno che cosa piace a un gruppo di ladri a persone che andare a rubare andare a rubare non a lavorare invece rubare il denaro e le proprietà di altri ecco come hanno lo stesso interesse si attraggono e creano una banda di ladri una banda di rapinatori ecco e forse rubano una banca diciamo una casa palazzo eccetera di tolgo potere ma che cosa accade dopo? siccome loro continuano a pensare a quello dopo dice e perché devo condividere questo bottino con gli altri? no voglio prenderlo tutto e magari qualcuno prende tutto e fuggi e gli altri eh quello si ha portato i miei soldi e alla fine si ammazzano a vicenda quello è attrazione e repulsione è chiaro quindi praticamente il male wow quindi il male che si attrae si distrugge il male distrugge se stesso un po' come la matematica che il meno per meno dà un più ecco è vero è un po' un po' così e in questo modo grazie alla legge di attrazione e repulsione che agisce nel piano astrale inferiore il male non è in grado di crescere continuamente invece distrugge se stesso e perciò sempre c'è un limite non può andare oltre quel limite il male non può essere mai eterno avete visto per esempio questa serie la serie narcos mai ci sono anche anche altre serie che raccontano un po' la storia di questi cartelli di narcotrafficanti papolo che scompara ecco ecco si 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 chiama violetta e legge del perdono in queste serie è interessante perché si vede agire la legge di di repulsione di attrazione e repulsione alla fine queste persone che sono presunti amici o presunti alleati alla fine si tradiscono nessuno ha fiducia dell'altro e infatti usano l'intimidazione la minaccia la paura per assicurarsi una la fedeltà perché non c'è un altro modo e tutti i sistemi autoritari usano quel sistema anche impaurire minacciare per assicurarsi fedeltà ma alla fine quello porta alla autodestruzione perché la gente si stanca e non vuole vivere così o magari un altro dice e perché perché lui è il capo del cartello anche io posso tradicono il capo come è accaduto parecchie volte durante l'imperio romano e in tutti gli imperi che ci sono che hanno non sono esistiti si uccidevano l'imperatore per salire del potere e dopo dietro c'era un altro che faceva lo stesso era la storia che non viviva più ora vi chiedo che facciamo per pulire questo bene ovviamente possiamo fare la fiamma violetta per trasmutare le creazioni negative che troviamo nel mondo emozionale i nostri propri sentimenti negativi egoistici tutti insieme io sono un pilastro di fiamma violetta che consome e risolve tutti i errori come si da me e da tutta l'umanità grazie ma c'è un modo un altro modo semplice mettendo in pratica questa conoscenza della legge di attrazione e repulsione che ci permette di trasformare trasmutare sentimenti brutti cambiano il sentimento cambiano il sentimento questo è per legge della solidarietà e la sostituzione sostituire un sentimento negativo e mettere l'attenzione sul sentimento positivo opposto perché si deve fare questo perché non litigare con l'odio perché non litigare con la paura perché non litigare con l'invidia fino a distruggerla perché nel piano fisico non mi piace questa bottiglia la distrugge ma nel piano astrale non funziona così le cose la cosa perché perché si possono creare anche nel piano astrale materializzare come no per legge della attrazione se tu vuoi sì ok ecco quindi se tu cominci a litigare contro il tuo sentimento di non dovrà essere odiato e cominci a litigare c'è un conflitto dentro te a cosa stai pensando stai dando la tua attenzione e persino la tua perché c'è un rifiuto verso l'orio e abbiamo visto che il rifiuto è un sentimento negativo sì c'è qualche sentimento negativo dentro dietro il rifiuto quando tu provi il rifiuto e cominci a litigare lottare contro diciamo la paura per esempio stai magnificando la paura diventa più grande più grossa oh ma hai due problemi hai paura e anche quel conflitto di provare paura ma non voglio provare paura quindi che cosa bisogna fare guarda che l'amore e l'amore c'è il coraggio e l'amore diciamo che provi timore o provi odio quella persona che io odio questa la mia ex moglie odio questa donna sai che e continua a odiarla quella persona sta generando l'odio ma dentro se ancora non c'è un grande conflitto invece se tu cominci io provo odio verso questa persona ma voglio non voglio odiare e comincio a litigare sentire per esempio un senso di colpa ho due problemi prima l'odio e secondo il senso di colpa e continua ad ingrandire magnificare il male invece sarebbe l'indifferenza ma forse togliere l'attenzione quando non sia così facile il più facile è proprio fissare l'attenzione sul sentimento positivo opposto quindi contrario capite se hai paura o timore concentrarti in meditare sulla fede la forza di volontà oppure la protezione dipende oppure sulla saggezza l'intelligenza se provi odio ti manca la tolleranza sviluppare sviluppare la tolleranza l'amore non pensare più all'odio e ogni volta che arriva il ricordo di quel rifiuto trasmutarlo si può sovrapporre su quel sentimento quello dell'amore il bene trasmuterà non lo spera col male semplicemente lo avvolgerà lo avvolgerà e anche come quel sentimento di odio non verrà nutrito alimentato sparirà sparirà da solo perché capite una cosa i sentimenti non esistono per sé sono una creazione nostra abbiamo creato questi sentimenti provando quel sentimento quando noi non continuiamo a provare quel sentimento muore di fame e persino se invece generiamo il sentimento contrario il processo di affamare di affamare morire far morire di fame il sentimento si accelera ma si riferisce al pensiero forma in sé che è stato ecco no è anche il sentimento quel sentimento è sempre collegato a un'immagine a un'immagine quindi è un'immagine odia all'odio non in realtà perché personifica un'immagine e quella immagine viene caricata con il sentimento è un pensiero forma che ha pensiero e sentimento un sentimento negativo che cosa facciamo sovrapporre un sentimento positivo andiamo a un esempio quindi una dovrebbe partire dal presupposto di dire intanto non esiste niente cioè se tutto è un pensiero quindi gli diamo il sentimento sia positivo o negativo alla fine dobbiamo anche pensare che allora tutto ciò che si prova può essere anche inesistente e cosa pensi magari il sentimento magari esco guarda una cosa quindi è il frutto anche del nostro pensiero cioè quello che noi pensiamo è il frutto del nostro pensiero ok quindi collegato alla sensazione che diamo ok per poter eliminare queste diciamo queste sensazioni cioè dobbiamo anche entrare a avere consapevolezza che non esiste infatti non esiste cioè adesso magari non esiste nel senso che non esiste possiamo rendere che non esiste da per sé è stata creata e siccome noi l'abbiamo creata noi possiamo distruggerla ma il modo di distruggere un sentimento o un'immagine mentale non è litigare no quando tu stai litigando stai mettendo la tua attenzione e quindi stai nutriendo infatti certo lo alimenti ancora di più il modo è lasciarlo morire di fame ok togliere spostare l'attenzione e fissarla su qualche argomento che sia positivo ok perché no e quello che hai detto e che hai capito in quel momento in questo momento è un prima o un poi l'ho capito io l'ho capito Angela infatti quello che io ho riscontrato datemi un attimo sì quello che ho riscontrato se uno sono un soggetto e quindi c'è proprio un pensiero associata e si provano appunto dei sentimenti poco piaciutori quindi inizialmente bisogna spostare l'attenzione su un'altra cosa che ti dà comunque amore oppure perché sennò diventa uno sforzo nell'associare amore magari con una determinata persona invece no bisogna spostare l'attenzione su un'altra cosa tu puoi trovare diversi metodi per riuscire a sviluppare questo amore diciamo se è amore ciò che serve ma ti do un esempio che impariamo in metafisica io l'ho usato e funziona in serio sì che è questo per esempio un'ex coppia che ti ha lasciato un ex socio che ti ha tradito per esempio dito lo potete ma diciamo che accade questo che cosa fai ovviamente come diceva Delia c'è un'immagine associata a un sentimento di rifiuto sia malinconia odio rancore rabbia eccetera quell'immagine è sorta nel momento oppure dopo che hai scoperto ciò che è accaduto bene quindi cosa puoi fare una cosa che puoi fare è sovrapporre quell'immagine il sentimento d'amore o di perdono all'inizio ovviamente non proverai un grande amore oppure la buona volontà di perdonare è il primo passo puoi visualizzare quella persona e per esempio affermare io ti avvolgo con il mio cerchio o il mio circolo di amore divino o con la fiamma ti avvolgo con la fiamma violetta o ti do il mio amore e il mio perdono provate a farlo questo funziona ovviamente se da tre mesi cinque anni stai diciamo periodicamente pensando cose negative hai alimentato in modo parecchio quel pensiero forma con sentimenti brutti non è un lavoro più un giorno trasmutare ma forse dopo un paio di giorni di settimane forse mesi riesci a cancellare quel sentimento si va a neutralizzare il sentimento e non è fare uno sforzo perché non stai facendo uno sforzo si uno sforzo positivo di fare la visualizzazione semplicemente ogni volta che arriva il ricordo arriva l'immagine ti abborgo con il mio circolo di amore divino facciamo il trattamento ti abborgo con il mio circolo di amore divino grazie padre e riuscirai a trasmutare il sentimento faremo una breve pausa cinque minuti e dopo continueremo con altri esempi si e quello che vorrei che vedessimo è come ogni sentimento negativo ha un contenuto di rifiuto per esempio quando c'è rabbia odio rancore rifiuto verso che? c'è rifiuto? si nel sentimento al bene rifiuto al bene al bene cioè quando una persona è arrabbiata con un po' c'è questo uomo è arrabbiato con chi? con la moglie quindi non può pensare il rifiuto è verso verso quella persona è un sentimento o forse verso quello che ha fatto magari continua a sentire e provare a morire ma c'è un rifiuto perché se ne è andato con un altro o perché lei non vuole restare con lui più c'è un rifiuto verso qualcosa sia la situazione o sia proprio la persona quindi l'odio il rancore è un sentimento negativo basta perché potrebbe portare l'orgo potere potrebbe portare a delle cose irreparabili e sopra tutto quello e vedremo infatti sì l'odio il rancore può se alimentato può portarti a fare delle cose più grosse più sbagliate o più sbagliate così quando quando perdoni poi ti resta soldato tutto il livello che hai fatto con quella persona e non ricordi più quel fatto che se ne è andato con la tua non più felicità no no sentite quello abbiamo visto che l'amore e i sentimenti positivi continuano a crescere che cosa accade quando hai avuto per esempio una coppia e quella coppia ti è tradita ti è andato con un'altra o altro eccetera quando dopo che hai trasmutato il sentimento di rifiuto ciò che resta è soltanto l'amore puro magari non la passione non è che tornerai mi sento innamorata di nuovo voglio esposare voglio no ma l'amore puro potremmo parlare persino dell'amicizia quello che è simile all'amicizia alla buona volontà quello rimane non si perde più no no quindi è la capacità che desiderate mi dico questo è vero sì sì oppure io conosco delle persone che hanno avuto parecchie fidanzate per esempio ho parecchie fidanzate coppie queste coppie tre e quattro e sono arrivati amici di tutte e di tutti sì assolutamente Stefano ha rapporto eccellente con tutti però possiamo anche se la moglie è d'accordo o meno che? che è il signore che la prima volta sono venuto qui con i capelli bianchi con i capelli bianchi con i capelli bianchi lui è stato mio ex un compagno per parecchi anni adesso viviamo in due case attaccate siamo amici amici e la compagna è la mia amica fantastico ma è un atteggiamento è un atteggiamento è un atteggiamento perché la moglie c'è 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 da lavorarci parecchia vero però sentite ragazzi facciamo una piccola continuiamo con la continuiamo con la seconda parte dell'attività di oggi siamo osservando o tenteremo di osservare come agisce come agiscono le leggi di attrazione e repulsione e come con questa conoscenza noi possiamo trasmutare attraverso la sostituzione un sentimento negativo una situazione negativa si sostituirla con un sentimento positivo una cosa ma con questo metodo con questa procedura si può arrivare ad attrarre ciò che si vuole ad attrarre anche dimmi dammi un esempio una desidera cioè proprio come c'è appunto si parla di attrazione si materializza si materializza ciò che una desidera quando il desiderio quando c'è il desiderio si il desiderio porta verso di te ciò che tu vuoi ma per esempio quando c'è il desiderio ma anche paura timore ma manca la fiducia di quello che accada vedi che il timore il timore che fa respingere l'arrivo di ciò che desideri quindi questa vige la legge di attrazione ciò che stiamo facendo è la legge di attrazione agendo nel mondo emozionale secondo come agisce nel mondo emozionale ok ma anche c'è un problema quando il desiderio è egoistico quel contenuto di egoismo ha anche un rifiuto un po' di rifiuto e prima o poi quel rifiuto porta un grado di sofferenza per esempio quando il desiderio è egoistico desideri qualcosa quello oggetto del tuo desiderio sia un oggetto fisico una casa una macchina una camicia oppure una persona il desiderio l'ha portato magari vi desiderate a vicenda e quello vi unisce ma un giorno si come il desiderio ha delle particelle di egoismo porterà sofferenza esempio che sofferenza porterà quando il desiderio o il sentimento ha egoismo è la paura di perderlo paura di perdere la persona la paura di non soltanto di perderlo di come si spera l'attaccamento che è l'attaccamento quando c'è egoismo c'è l'attaccamento e tutte tutte le sofferenze che sono causate dall'attaccamento perciò dobbiamo imparare anche a desiderare le cose manifestare ma senza attaccamento ma nel momento che si capisce come è la procedura come funziona il fatto di poter attirare e poter goderci di tutto il bene per il fatto che esiste non c'è attaccamento perché nel momento che qualcosa sparisce o lo perdi apparentemente nel mondo fisico le cause ci sono nel mondo mentale è un'attaccamento per il tuo perdimento di coscienza allora l'unica cosa da fare è continuamente l'autosservazione di quello che pensi di quello che provoca anche quella sensazione oppure ha dovuto controllare il sentimento quasi come se di non farsi perturbare pensa questo Marilena è per tutti quando tu stai camminando su un sentiero e trovi un serpente che cosa fai io avrei paura ma c'è paura puoi provare una paura che è una parte del come si chiama di protezione di un senso di sopravvivenza ma che cosa fai guardi il serpente cosa fai vado a camminare qui allontani ok cerchi un'altra strada o vedi un modo di allontanare il serpente ecco bene meditate a questo che stiamo studiando e riuscirei a osservare un sentimento di odio e un sentimento di paura un sentimento di depressione come se fosse un serpente e quando ti rendi conto che stai cadendo nella depressione fai un giro e fai uno sforzo positivo per sviluppare la gioia perché sai che quello è la causa del male ok o quando stai trovando attaccamento non continuerò in questo sentiero perché finirà male ecco per esempio vediamo che cosa sta provando questo uomo invidia invidia cosa serve per provare invidia che cosa devi pensare fare per provare invidia vuolessi avere quello che ha l'invidia è desiderare ciò che ha un altro vero ma perché questo uomo desidera questi palloni palloncini che ha l'altro perché lui ce l'ha uno e ce l'ha il piano ecco che cosa sta facendo sta facendo un parangone e quel parangone è reale no lo sta facendo lui con la sua mente quindi se lui non facesse quel parangone non facesse un contrasto non ci sarebbe la invidia la invidia sorge quando continuiamo continuamente stiamo facendo un parangone un confronto tra ciò che ho e ciò che ha lui oppure lei quindi scusami e soprattutto per guardare quello che mi manca che mi manchi allora ha anche diciamo un modo per per alledare le sofferenze non pensare non pensare oggi è un'idea di data questa donna non pensare non pensare non pensare non pensare non pensare il problema è pensare quindi non bisogna pensare non pensare perché la mente è la creatrice delle menzogne la mente è chi crea la sofferenza la mente è quella che crea il male la mente è l'inglese dice c'è un libro che dice la mente è il grande destruttore del reale distrugga la mente ma quello non è distruggere proprio e controllare la mente usare la mente quando serve e quando non serve rimanere in silenzio ma vedremo perché la mente come i sentimenti non si può controllare tentando di fare uno sforzo abbiamo visto che facendo uno sforzo stiamo alimentando sia il pensiero sia il sentimento invece ciò che si può fare è osservare quello senza rifiuto e senza attaccamento oppure usare la sostituzione che all'inizio è più facile più semplice spostare la la l'attenzione e fissarla su un argomento piacevole positivo quindi che cosa vedete il maestro Sangervan dice la gelosia e l'invidia sono una porta aperta a tutti i tipi di attività distruttive per esempio a che cosa porta l'invidia dove può portare l'invidia a commettere qualche delitto a commettere qualche rubare li tolgo potere ma no rubare ammazzare qualcuno odiare odiare e tutto è sinonimo di sofferenza è proprio sofferenza e abbiamo visto che l'invidia ha un contenuto di rifiuto spiegava Gregorio e rifiutare che cosa? che lui ha più palloncini da me in questo caso di me c'è un rifiuto ecco sarebbe felice se invece avesse io questo più palloncini di te no è quella che ha la differenza che quel signore sorride e lui invece no potrebbe essere anche un altro momento di fare un sorriso dopo questo diventa un'abitudine emozionale e alla fine magari quando lui riesce ad avere più trova una terza persona che ha ancora di più e continua a soffrire perché ha l'abitudine di confrontarsi con gli altri e sempre c'è qualcuno più povero o qualcuno più ricco e poi abita anche la propria persona a pensare in quel modo perché a volte i nostri pensieri non sono altro che l'abitudine di uno stile di vita però un modo di fare quotidianamente diventa anche l'abitudine i sentimenti che sono parte del nostro carattere sono abitudini emozionali quando sono negativi bisogna fare uno sforzo per cancellare quell'abitudine quando diciamo questa persona è invidiosa è gelosa che ha l'abitudine di provare quel sentimento fa qualcosa con la sua mente continuamente o periodicamente bene che cosa possiamo fare un modo di trasportare questo è invece benedire l'opulenza per esempio il successo di quella persona invece di provare invidia per questa persona proverò a benedire la sua intelligenza i suoi talenti la sua opulenza per esempio e così rimpiazzare l'invidia per la come direi generosità e l'essere felice per il successo degli altri ecco e anche lui si deve concentrare e fare lo sforzo per raggiungere i suoi obiettivi perché in realtà una persona che invidia non ha obiettivi propri perché se lui adessi degli obiettivi propri sarebbe concentrato il raggiunto o forse forse il suo obiettivo è avere questa ricchezza ma se continua il problema non è quello il problema è l'abitudine di pensare confrontare sarangolarsi con gli altri quello è il problema il problema non è voler essere ricco il problema è voler essere più ricco il problema non è io voglio diventare un attore per esempio il problema è io voglio diventare l'attore più famoso quello diventa un problema perché sempre starai litigando mentalmente con gli altri più famoso perché c'è qualcuno che vuoi essere sopra ecco qualcun altro ecco comunque che la fisi lasciare la storia del bene non abbiamo fatto il decreto Dio benedice i tuoi talenti e le tuoi capacità grazie e che cosa stanno facendo stanno litigando per il business per esempio forse hanno due aziende ognuno ha un'azienda simile sì e che cosa litigano perché che cosa vogliono per prendere clienti per prendere il mercato per essere un'unione ho aperto questo supermercato sì e sei mesi dopo apro un'altra e provo una grande angoscia magari perderò i clienti comincerò ad avere dei problemi non potrò pagare quindi l'invidia può essere anche una forte paura paura può essere anche cosenza di povertà in questo caso per esempio avere il coraggio di fare una cosa e quindi proiettarlo sull'altro è possibile oppure una legge c'è una legge che si chiama domanda e offerta secondo questa legge di domanda e offerta se in un quartiere ci sono due supermercati è perché ci sono clienti per entrambi in supermercati e non devi provare paura né preoccupazione e poi infatti trasmutare il sentimento di paura o di invidia eccetera affermando Dio è un po' diverso da quello che la gente fa perché come se diciamo molte persone hanno paura di togliersi via qualcosa ce ne è benedire gli altri hanno paura di perdere loro sì psicologicamente quella cosa è quello è quello porta la persona a provare paura la paura attira verso la persona ciò che è la causa sì se ha paura della povertà o di fallire sta tirando verso di sé il fallimento e anche sta maledicendo l'altro con i suoi pensieri a volte anche con le parole per legge di causa ed effetto quello tornerà indietro e porterà la rovina alla fine si sta facendo del male il meglio che può fare è benedire il bene benediciamo il bene che cosa poneva questa ragazza gelosia gelosia maledicendo maledicendo buono dietro forse gelosia no ok forse gelosia oppure un amore non corrisposto sì c'è rifiuto nella gelosia c'è rifiuto certo che cosa rifiuta c'è un conflitto ma qual è il conflitto che cosa rifiuta quella ragazza rifiuta il fatto che il ragazzo preferisce un'altra oppure la lasciata per un'altra oppure non la vuole non ha un interesse può essere anche no oppure no bene bene c'è rifiuto quindi è un sentimento negativo scusa questa è una infatti a volte quando ci sono queste gelosie non è tanto poi il fatto che il ragazzo o il marito l'abbia lasciata ma diventa più una competizione tra la nuova compagna insomma del fidanzato che è con se stessi cioè proprio lasciate una competizione e a volte viene l'uomo giustificato in quello che ha fatto è la cattiva e lei per esempio non lui che ha tradito per esempio la fidanzata la mole eccetera bene in qualsiasi modo può essere gelosio o può essere semplicemente un amore una depressione per un amore non corrisposto in qualsiasi caso c'è rifiuto sì verso la realtà e c'è un conflitto con la realtà ok che cosa facciamo bene diverse cose una può essere rinunciare capire che è un conflitto con la realtà e infatti non c'è un'altra che non pensare più a quello perché non serve a nulla è come dire io vorrei che questa camicia fosse verde non sarà mai verde è blu basta o celeste e normalizzare il fatto che se una persona non è felice con te ha il diritto di essere felice con te come un ha il diritto di essere felice ecco però anche anche benedire quell'unione se è positiva per esempio inviare un pensiero positivo con quel rapporto ma rinunciare a qualcosa siccome la maggior parte delle persone crescono con l'idea che il sinonimo di rinunciare significa sconfitta quindi a quel punto il fatto che una sa che deve rinunciare però in automatico scatta anche questo senso di sconfitte anche la sensazione di sconfitte sì sì è vero ma comunque ti dico una cosa siccome quella ragazza tu io Cinzia tutti noi siamo arrivati da soli quando siamo nati eravamo da soli ce ne andremo da soli alla fine il tuo marito i tuoi figli la tua casa il mio computer sono nostri no niente ci appartiene alla fine dovremmo se non rinunciamo prima avremo una grande sofferenza e dovremmo rinunciare dopo quindi è meglio psicologicamente capire questo e comiti i tuoi figli il tuo marito la camera il computer ma senza attaccamento consapevole che questo rimane qua o se ne andrà prima affermiamo ti lascio andare io sono libero e tu sei libero benedicuo benedicuo e aggiungerei benedicuo in questa situazione magari ti stai liberando è quella che viene qualcosa di meglio certo bene questo uomo che cosa sta provando? c'è paura paura timore la paura il timore ha un contenuto di rifiuto? sì sì verso verso la situazione che gli sta creando che non è desiderata ecco verso una situazione una situazione non desiderata può essere personificata da una persona ma è una situazione il problema è che il timore attira ciò che si teme che si teme perché a cosa pensa la persona impaurita? al negativo al negativo sì e ciò che tu pensi e senti lo attrae si manifesterà ecco si manifesterà prima o poi quindi dobbiamo prima capire questo che il modo di liberarsi dal timore non è continuare a cremare nemmeno rifiutare il sentimento di timore deve essere sostituito da un sentimento per esempio di coraggio valore fiducia eccetera tutti insieme io sono la cosa il reaggio il potere del milionario per avere ogni esperienza qualsiasi essa sia è regalo allegro solidato pieno di pace e armonia in ogni momento per la gloriosa presenza io sono grazie padre condanna e rifiuto e condanna e critica per esempio la critica a rifiuto a un contenuto di rifiuto ovviamente verso verso la persona criticata o la qualità o la situazione o le qualità della persona vorrebbe magari che fosse diversa no? avesse un carattere un atteggiamento diverso da quello che ha ok bisogna anche trasmutare quella quell'abitudine terribile una delle più comuni no? di abitudine cioè più solite che si ma anche se possiamo collegare la nostra lezione vuol dire che noi riconosciamo un simile fuori da noi spiegami perché parla dello spettico loro riesce a tirare parlando della legge di attrazione quella situazione quel difetto quella cosa criticata riesce a abbracci perché non c'è in noi un simile quindi c'è un attrazione guarda e quel simile è ovvio quando stai quando si sta criticando quando stai criticando un'altra o condannando un'altra persona dove è la tua attenzione? sulla critica di quella cosa sulle caratteristiche di quella persona e che cosa fa l'attenzione? stai tu cominciando a provare ciò che tu stai condannando a volte si critica perché magari è un modo anche per se stessi di dire io sono meglio cioè se io per esempio dico guarda che camicia non mi piace questa camicia ti faccio un esempio non faccio altro che dire la mia camicia è migliore della sua che è un modo io critico l'altro per esaltare me per sminuire certo ma guarda che cosa accade quando tu cerchi qualcosa sì per esaltare te troverai anche un giorno un'altra persona che avrà una camicia più bella e ti sentirai di meno ora è possibile anche l'avitudine di confrontare no? è possibile perché nel senso se io giudico prima o poi sentirò la giudizia su di me su di me oh questa è una volta che c'è persino quando non ti stanno giudicando sentite qualche volta avete avete osservato o guardato due o tre persone chiacchierando e qualcuno ti guarda e hai pensato stanno parlando cattivamente di me perché magari ti ha fatto quindi hai giudicato e speri pensi che ti stanno giudicando perché pensi quello? perché è spostato anche lo sguardo perché siccome sei abitato a fare quello vedi altre persone in una situazione e credi che fanno lo stesso da te certo 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 infatti a volte parla e tu non ti rendi conto che stanno parlando di te ecco quando tu sei veramente positivo e non ti rendi conto e se in qualche momento veramente senti che stanno parlando cattivamente di te ma non ti rendi conto però 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 fai un trattamento e basta anche qui è diciamo un po' difficile perché comunque anche il giudizio è a parte di noi il giudizio perché? perché fa parte di noi? sia in bene che in male cioè possiamo dare anche una diciamo un giudizio di un qualcosa di qualsiasi cosa non per forza delle persone ma di tutto ciò che ci circonda diciamo un parere giudizio chiaramente però facciamo sempre un discernimento no? un bene o un male un senso male l'importante è che non danneggiamo altro forse è questo bisogna chiarire questo se tu vedi una persona rubando e dici quella persona è un ladro quello non è un giudizio è un fatto è un fatto è una considerazione ok? quello quello che è un giudizio è una condanna quando c'è un rifiuto ok un sentimento capisci? c'è un risentimento un sentimento negativo e comincio a parlare cattivamente dagli altri che cosa perché Gesù dice di non giudicare perché dice perché giudichi tutti gli altri quando anche tu hai gli stessi errori oppure hai altri che sono peggiori ancora ma in realtà le stesse guardate una cosa quando tu tutti gli esseri umani più o meno hanno fanno degli errori hanno degli defetti come diremmo mancanze mancanze delle qualità di vita e tu quando ti rendi conto che i tuoi figli il tuo padre e la tua mamma il tuo marito la tua moglie e la tua fidanzata hanno questi difetti stai parlando di questi difetti in strada con tutti ti chiedo assolutamente no assolutamente no perché perché non parli degli errori dei tuoi cari perché curiamo quello che vogliamo perché ami quelle persone esatto quando tu ami le persone non parli male di quelle persone a volte anche hai tolleranza nemmeno nemmeno parli con loro per dire eh perché non cambi questo hai tolleranza rispetto questo vuol dire che quando stiamo parlando cattivamente degli altri è perché non amiamo quelle persone e basta è mancanza d'amore semplicemente bene finiamo la lezione facendo questo trattamento io mantengo i miei sentimenti e parole le mie davanti critica e giudizio grazie padre e qui finiamo la lezione di oggi un piacere la settimana prossima sentite la settimana prossima parleremo di un argomento che è uno dei più importanti di questo corso parleremo sui fenomeni astrali e anche potremmo parlare un po' sull'esorcismo e quelle situazioni che anche meritano di fare un esorcismo sono queste situazioni questi fenomeni fenomeni che sorgono dal piano astrale che disturbano la vita di molte persone e che noi come studenti di metafisica studenti dell'insegnamento spirituale dobbiamo conoscere per la nostra stessa protezione e anche per proteggere e chiarire gli altri grazie emilia ci vediamo alla prossima grazie 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 grazie